In merito alla rapina al bar di Modica Alta, nei giorni scorsi, la polizia di Stata ha identificato e definito all'autorità giudiziaria anche il secondo rapinatore. Come è noto, i due, con un coltello vicino alla gore del proprietario del bar, erano riusciti a farsi consegnare il ricavo della serata, circa 800 euro. Attraverso i pochi elementi acquisiti, al racconto della vittima e, in particolare dall'accento albanese di uno dei due, il personale del commissariato di Modica ha avviato una rapida attività di indagine che ha condotto al fermo del primo albanese nelle prime ore successive al fatto. Nelle ore seguenti, al primo fermo, il personale sempre del commissariato ha continuato ad operare per identificare il complice. L'attività in questo caso si è rivelata molto complessa per i pochissimi indizi utili acquisiti e per la difficoltà di ottenere maggiori dettagli. L'incessante attività investigativa ha portato comunque, nelle scorse ore, la compiuta identificazione del secondo rapinatore. Anche gli dettini albanese è solito frequentare lo stesso bar. Dopo gli accertamenti tecnici necessari, il secondo rapinator è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di rapina gravata in concorso. Allo Stato lo stesso risulta irreperibile e sono in corso ulteriori ricerche.